Musica Ed eccoci qui con Floriana che è al Dubai, cioè è venuta una volta, no? Ha fatto un evento Io sono stata al Dubai Caffè, presentavo la sera con Gabriel Garco Bellissima serata con Gabriel Garco, c'era Cristina del Basso C'era Martufello Siamo divertiti con le barzellette Molto, tantissimo, perché insomma era una game station, praticamente era un spettacolo Musica, danza Come stai Floriana? Scoppio di salute Benissimo, tu hai dei figli? Sì, ho un bambino di 5 anni Come si chiama? Domiziano Domiziano, bellissimo Imperatore romano Va bene, ti lasciamo, vuoi dire qualche cosa, un saluto? Sì, voglio dire... Tu sei una giocatrice? Io gioco nella vita in genere, io prendo la vita per gioco E fai bene? Tutti i tipi di gioco, insomma E quando si gioca, quando si scherza, si fa sul serio Ciao Bellissima questa, la capisco fra mezz'ora comunque Ciao, grazie Ciao, grazie a tutti Ciao Ciao